Ciao a tutti, io sono Yojimbo e vi do il benvenuto del canale Yo K Show. È finalmente uscita la seconda stagione di Eluva Boss, credo che questo sia stato il weekend con più hype degli ultimi tempi, vi giuro YouTube è impazzito per questo episodio. Abbiamo visto la puntata poco dopo la sua uscita e l'abbiamo apprezzata tantissimo e siamo qui oggi a fare insieme a voi quella che è l'analisi completa di The Circus, il primo episodio della seconda stagione di Eluva Boss. Ovviamente ci saranno degli spoiler, quindi siete avvisati. Partiamo veramente col botto perché questo primo episodio è ambientato in tre archi narrativi temporali diversi. Ci troviamo nel passato in un flashback ma al tempo stesso abbiamo un déjà vu, poiché siamo nuovamente al palazzo del principe Stolas e notiamo però che sul castello non vi è impresso il suo sigillo come nel presente, come mostrato in The Harvest Moon Festival, bensì il simbolo di Paimon. Non è un giorno come tutti gli altri poiché è il compleanno dello stesso principino, ancora bambino all'epoca. Notiamo fin da subito un'animazione molto più fluida rispetto ai precedenti episodi, è innegabile che la qualità sia aumentata e di molto. Notiamo come il piccolo Goisha viene servito da un maggiordomo imp, cosa che rafforza ciò che dicevamo in passato sul fatto che gli imp sono praticamente il ceto più basso della popolazione e che spesso fungono da servitori per la nobiltà demoniaca. Mentre la scena si sposta nel corridoio vediamo dei ritratti che ci mostrano la vita di Stolas. Prima un uovo reale, poi un cucciolo di uccello che diventerà materiale per i miei incubi e poi il piccolo Stolas come lo vediamo ora. Questi quadri ci testimoniano che il principino provava già qualche tipo di attrazione o interesse nei confronti degli imp, perché lo vediamo stringere un pupazzo a forma di coniglio con appunto le sembianze di un diavoletto, come possiamo osservare in tre ritratti. Ricordiamoci di questa cosa perché ci servirà andando avanti in questa analisi. Facciamo subito la conoscenza di suo padre Paimon, doppiato da Jonathan Freeman, lo stesso doppiatore di Jafar di Aladin, non a caso il suo Comset è proprio ispirato a quel villain. Lo avevamo già visto nella famosa animazione pubblicata su Twitter dallo staff, facciamo un video al riguardo, dateci un occhio se volete approfondire questa figura. Dalla frase che pronuncia capiamo subito che questo potente demone ha molti figli e che, a quanto pare, è un padre veramente orribile, visto che non si ricorda neanche il nome di Stolas. Annuncia al figlio che da d'ora in poi si dedicherà allo studio di varie discipline e gli consegna soprattutto il famoso Grimorio, con cui potrà approfondire la propria conoscenza sulle costellazioni, poiché questo libro magico gli darà accesso al mondo umano. Tra parentesi, bellissimo il design di Paimon e soprattutto quest'aura in bianco e nero che ha la sua magia, anche quando consigna il Grimorio al figlio. Vi dirò, sembra quasi che l'abbia materializzato da una dimensione da un tempo diverso, davvero molto particolare. Oltre ciò, il demone annuncia al piccolo guffo che il suo destino è quello di espandere la famiglia Goisha, e quindi, come membro di tale casata, sposerà obbligatoriamente, come già deciso, Stella, un'altra rampolla della nobiltà demoniaca. Che, a giudicare dalla foto in cui strozza due cani, sembra essere particolarmente sadica fin da bambina. Questo matrimonio combinato e il fatto che il suo destino non sia affatto negoziabile, getta nello sconforto il povero Stolas, che fin da allora probabilmente aveva altri sogni per se stesso. Suo padre, per tirarlo un po' su, lo fa portare al circo. Tra l'altro notare, come lui non lo accompagna fisicamente, ma presenze da uno specchio magico portato da un servitore. Veramente papà dell'anno, ragazzi. Al circo vediamo Blitz e Fizzaroli da bambini esibirsi in coppia come clown nello spettacolo circense. Fa un certo effetto vederli ancora così piccoli e soprattutto integri, perché nel caso di Fizz, nel presente, possiede per la maggior parte arti robotici, il che ci fa presupporre che a un certo punto abbia avuto un incidente in cui abbia perso braccia e gambe che gli sono stati amputate. Nel caso di Blitz, qui lo vediamo privo delle solite macchie bianche che sappiamo essere ormai le cicatrici degli Imp. Può essere che siano stati entrambi coinvolti in qualche incendio o evento traumatico che gli abbia deturpati entrambi? Lo sguardo di Stolas, che fissa Blitz, ci dice subito una cosa. Uno, due, tre, innamorato! Eh già, il piccolo Imp sembra far subito braccia nel cuore del nostro principino. Infatti, pare essere l'unico a ridere delle sue battute in quell'attimo di imbarazzo in cui Blitz non riesce a fare il cavallo con i palloncini. Vi ricordate del pupazzo a forma di Imp di cui parlavamo prima? Beh, quell'elemento di trama potrebbe essere stato inserito per giustificare il perché Stolas trova qualcosa di così rassicurante in questi diavoletti. Sta in pratica proiettando l'amore che aveva per il suo vecchio giocattolo di infanzia su Blitz e, in età adulta, trasformerà questa amicizia in una relazione romantica. Se ci pensate, questa cosa potrebbe spiegare in parte la dinamica e le origini del loro rapporto. Paimon si accorge subito di questo feeling tra Stolas e il diavoletto e quindi, visto che il figlio non ha amici, chiede a Cash Buzzo, il proprietario del circo, di comprare Blitz perché tenga compagnia Stolas. Scopriamo che il vecchio Imp con la barbetta da capra è il babbo di Blitz e, ovviamente, anche quello di Barbie, sua sorella. Aspettate un momento, ma quindi Mister Capretta è pure il non adottivo di Luna? E, indovinate un po', pure suo padre è un bastardo, yeeey! Sì, perché, a quanto pare, lo vende alla modica cifra di qualche soldo e di un preservativo, a quanto pare. Se non volevi avere un figlio, mi viene da dire che il preservativo forse lo compravi prima. Nah, dai, in fondo non è così tremendo. In realtà, il suo vero piano ci viene rivelato poco dopo. Cioè, vuol far entrare il figlio nella dimora di Stolas per poter arraffare e rubare quante più ricchezze possibili dal palazzo, mentre lui lo aspetta fuori dalla finestra per poter fuggire col bottino. Mosso con passione dal padre che lo costringe con un ricatto morale, dicendogli che la sua povera famiglia servono i soldi per mangiare e che non può avere il cuore di non aiutare la sua povera mamma! Qualcuno pensi alla mamma! Baby Blitz, mi domando come mai, accetta e va a stare a casa di Goisha. Solo io ci vedo un parallelismo tra Heidi e Clara in questa compagnia. Qui Stolas cerca di fare amicizia con lui mostrandogli i suoi libri, eccetera, ma Blitz si annoia e gli propone di giocare alla caccia al tesoro. E in cosa consiste questo gioco? Semplicissimo. Far finta di essere dei pirati e andare in giro per tutto il palazzo a raccimolare tutte le ricchezze che trovano e a metterli in un sacco. Capito che furbo il nostro diavoletto? Sfrutta l'ingenuità del povero Stolas, che non so voi ma in questo episodio mi fa proprio una gran tenerezza, è veramente un patatino e usa il gioco come scusa per mascherare la rapina. Si fa addirittura aiutare dal piccolo principe a svaliggiare la casa perché in due ovviamente si fa prima. Mica scemo Blitz! Tra l'altro veramente bellissime queste sequenze in cui scorrazzano insieme per casa. Vederli giocare, se permettete, è in fin dei conti la realizzazione di quel sogno di Stolas. Quel giocattolo che tanto ha amato, con cui si divertiva, è diventato reale alla fine ed è ovvio che segua Blitz in tutto quello che gli propone senza battere ciglio. Il piccolo Imp, mentre il gufetto è distratto, butta dal balcone il sacco dell'aria furtiva a suo padre che lo aspetta sotto tra i cespugli. La scena si sposta poi ad un grande albero dove i due ragazzini molto sereni si raccontano i propri sogni e speranze che hanno per il futuro. Qui apprendiamo che Blitz in origine voleva seguire le orme di suo padre ed aprire un proprio circo, ovviamente pieno di cavalli con un bel ufficio. Secondo arco narrativo, facciamo un salto in avanti di 25 anni. Ci troviamo ora temporalmente qualche mese prima dell'inizio della serie di Ulvaboss. Stolas è incastrato in un matrimonio infelice con Stella e l'unica ragione per cui resiste è per dare una vita normale alla loro figlia Octavia, sulla quale veglia fin da quando era bambina. In questa scena molto triste possiamo vederlo alzarsi al mattino e prendere delle pillole da un flacone con sopra scritto Pillole della felicità e il nome di Belphegor. Belphegor è il principe del girone della pigrizia, secondo la classificazione dei demoni di Peter Binsfield. Quindi possiamo immaginare che queste pillole possono essere un farmaco o una vera e propria droga che Stolas usa per poter sopportare ancora un altro giorno di matrimonio angosciante nel quale Stella gli farà violenza psicologica per l'ennesima volta. Nel frattempo notiamo che Blitz cerca di introdursi nella stanza di Stolas per rubare il grimorio. Stella dà una festa di non divorzio e in questo evento pieno di demoni uccello la possiamo vedere denigrare Stolas con due suoi amici. Ve li ricordate? Questi due demoni si erano già visti per fare colazione con Stella nel pilot e avevamo supposto nel video su Andrealfus che il demone potesse essere proprio lui e sua moglie nei loro precedenti prototipi. Oggi però sappiamo che non è così perché questi due personaggi sono nuovamente tornati e ora siamo consapevoli che sono due figure completamente separate da Andrealfus. Tornando a noi Blitz viene fermato da due segugi infernali agli ordini di Stolas che ancora legato a lui dopo tutti questi anni lo fa portare nelle sue regali stanze. Qui inizia il fraintendimento il principe si ricorda benissimo dell'imp e pensa che Blitz sia lì per lui mentre il diavoletto vuole rubare il suo grimorio senza il quale non può avviare il business della IMP poiché gli serve per andare sulla terra. Dopo essermi ripreso dal mezzo infarto che Blitz ci fa prendere mentre gira la testa di Stolas di 360 gradi ricordate è un gufo e pure un demone quindi può girare la stile bambina dell'esorcista senza farsi nulla. È interessante notare che l'imp non voleva fare sesso con Stolas ma lo fa comunque. Una scelta significativa che evidenzia la differenza dell'approccio dei due. Uno è promiscuo e va a letto con l'altro solo per ottenere ciò che vuole. Stolas invece lo fa sia perché ne ha bisogno fisicamente parlando ma perché soprattutto fare fichi fichi con l'imp rappresenta tutto quello che ha sempre desiderato. Quel rapporto consumato con lui rappresenta la sua libertà quel sentimento che è nato prima da una bambola concretizzatosi poi in un amico è diventato poi l'oggetto del suo desiderio fuori dagli schemi della sua casata fuori da questo matrimonio imposto. Ci rendiamo conto a questo punto di trovarci ancora una volta nella stessa scena del pilot ma vista dalla prospettiva di Stolas che ha fatto il primo passo verso la sua libertà ed è stato incredibile vedere che non cerca di nascondere il suo tradimento ma grida di gioia invocando il divorzio. Terzo salto temporale siamo tornati al presente circa un anno dopo e vediamo il nostro principe tragugiare un'altra bella manciata di pillole. La storia riprende da dove l'avevamo lasciata alla fine dell'episodio 7 quella maledetta sera in cui Stolas e Blitz hanno discusso. Lo capiamo dal fatto che il gufo indossa ancora lo stesso vestito di quella sera e ha il trucco colato dalle proprie lacrime. Ripresosi dello stordimento inizia una canzone ed uno strano libro si apre sul tavolo ma ne parleremo tra un attimo. Compare improvvisamente Stella che a suo dire è tornata per tormentare ancora una volta Stolas mentre lui, stanco di tutta questa situazione arriva persino a scusarsi e a dire che gli dispiace per il suo tradimento ma che sanno entrambi che la loro unione era una farsa un matrimonio combinato e che ha sempre solo pensato al bene della loro figlia. La moglie cerca di colpirlo e Stolas la blocca con prontezza se ricordate già in passato Stella gli ha tirato contro degli oggetti. Questa parata testimonia che non è la prima volta che picchia Stolas questa non è prontezza di riflessi è memoria motoria è una risposta automatica ad abusi fisici e verbali già subiti ancora ed ancora in precedenza. Questa volta però basta il principe le risponde che non gli interessa nulla e che la vuole fuori dalla sua vita e fuori dalla sua casa definitivamente nonostante lei lo minacci. Facciamo un piccolo passo indietro durante la canzone che accennavamo prima Stolas apre un libro di incantesimi di Asmodeus e possiamo vedere al suo interno delle pagine scritte in un linguaggio runico che alcuni fan su Twitter hanno già tradotto. Secondo la traduzione questi sono i cristalli di Asmodeus che genericamente vengono concessi ai succubi per andare sulla terra facili da usare e descritti come dei gioielli. Infatti vediamo una collana e un anello raffigurati nel libro e questo spiegherebbe in effetti come fanno Verosica e i suoi amici ad andare nel mondo umano senza possedere un Grimorio. Supponiamo che Stolas li potrebbe usare per magari scappare sulla terra qualora ne avesse bisogno e forse è proprio per questo che lo vediamo in forma umana nel trailer. Come si può notare in questa clip di un episodio proiettata in anteprima in un evento per i fan osserviamo che Octavia ruba il Grimorio e immaginiamo che possa trattarsi dell'episodio 2. Magari Stolas si incontrerà con sua figlia sulla terra mentre Blitz e gli altri membri della IMP stanno cercando di riportarla a casa per avere indietro il Grimorio e probabilmente incontreranno Stolas che a quanto pare si trovava già là. Qualcuno aveva anche ipotizzato che questi cristalli potessero essere un modo per costringere Blitz a tornare da Stolas ma punto più per il momento sulla nostra idea cioè che possano essere un mezzo di trasporto alternativo per raggiungere la terra e se ci sono stati mostrati a qualcosa serviranno cos'altro ci nasconderanno queste magiche pietre? Questa era la nostra prima analisi dell'episodio 1 della seconda stagione di Luva Boss mamma mia che giostra di emozioni questo inizio ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e parlatemi di tutti i particolari che avete notato e delle vostre teorie che vi state facendo al riguardo ma ora una menzione speciale ragazzi va ai nostri primi abbonati al canale grazie di cuore a Xel e Star Flame che hanno scelto di sostenere il nostro progetto aiutandoci tantissimo inoltre se hai apprezzato questo contenuto oltre a iscriverti al canale e attivare la campanellina delle notifiche per sapere quando usciranno i nostri prossimi lavori mentre aspetti l'episodio 2 perché non dai un'occhiata anche a questo video sempre a tema e Luva Boss o Asbin Hotel e noi come sempre ci vediamo al prossimo video